Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di ChrisMagic22 Allora ragazzi, oggi siamo qui in un nuovissimo video perchè i miei amici mi comanderanno per 24 ore Allora ragazzi, io direi subito di andare a sentire l'audio di Roble e vediamo lui cosa ci dice Allora, vediamo Ciao Chris, il mio pubblico è che devi tornare giusto a Moccaist dopo tanti mesi Ok, Roble ci dice di tornare su StumbleGuys dopo tanti mesi E sì raga, perchè non pubblico da tanto tempo, perchè mi sono successe delle cose non tanto belle Ma io direi di iniziare e di rientrare finalmente dopo due mesi, due o tre mesi su StumbleGuys Infatti ragazzi, ecco qui StumbleGuys Eccolo qui Ha pure cambiato Ha pure cambiato Lo sfondo prima di entrare Va bene, va bene Questa immagine per me mi piace di più Ok, allora, Ruota Futuro Oscuro Gira per ottenere Va bene, sì dai Ah no, vabbè Si deve comprare Ma ragazzi Siamo entrati su StumbleGuys E ovviamente ci andremo a fare una bellissima partita Eh, però giriamoci prima la Ruota della Fortuna Speciale? Ma no, ma vai nella vita E vabbè Eh, dieci gemme Adesso io direi di cliccare gioca e andiamo Allora, non c'è specificato quante partite fare Ci ha detto soltanto di entrare Quindi a questa ora io potevo soltanto entrare e poi riuscire Però vabbè Ci facciamo una partitina giusto così Per vedere se è cambiata qualcosa in qualche mappa Poi anche perché è più bello rientrarci dopo tanto tempo Cioè, quindi raga Allora Ovviamente vediamo che mappa sceglie E ovviamente sceglie Super Slide Allora, per me era meglio quando c'era KitKat Games, raga Però purtroppo Da ben un anno Eh, vabbè raga, si sono così scarsi perché non ci entro da Un botto di tempo E poi Ma non si può muovere più Ah no, la visuale si muove ancora No, perché prima stavo muovendo e non si muoveva più Allora Allora, se mi ricordo bene Non si faceva così Ma ovviamente Io dopo tanti mesi Non riesco a fare il nuovo trick Ovviamente no Però ci riproviamo E ci siamo riusciti anche questa volta Ah no No, non cadere giù perché Se no Oddio Oddio Già una persona qualificata E questo non va bene Regà No, mi pare che mi qualifico Vabbè, vabbè, vabbè Oddio E dai Muoviti Ma no Dai, 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 dai Se si qualificano Oddio No, regà Non è possibile Non è possibile Vabbè, vabbè, regà Cosa ci aspettavamo Cioè dopo un bel po' Dei mesi che non ci entravamo Mica potevamo vincere Vabbè Ne vogliamo fare un'altra? Sì, va bene Facciamone un'altra giusto così Per Allora, facciamone un'altra giusto così Perché Voglio almeno vincerne una Ok Clicchiamo esci E Riclicchiamo gioca Ah Me le ero dimenticate Le pubblicità Ecco qui Connessione In attesa dei giocatori Speriamo che ci dia qualche mappa Tipo bella Non super slide Che tipo quelle vanno Agli ultimi round Ti prego Almeno tipo Jungle roll Roll Vediamo quale esce Oh Ed è uscito Cannon Climb Chaus Allora Spero che si pronunci così Allora Oddio Mamma mia ragazzi Ma mi va a scatti questo Questo gioco Vabbè Va bene Va bene A caso si è attivato un emoji Mannaggia Mannaggia la miseria Regà Qua è proprio un casino Chaos Vuol dire caos Mannaggia la miseria Oh No no Vabbè Regà Questo È lo step Che odio di più Infatti Già due persone qualificate Ma se non mi qualifico Non me ne importa proprio Questo gioco Non fa per me Un'altra volta Perché l'avevo abbandonata E vabbè regà Ho perso Ho perso Zitto No vabbè Allora ragazzi Ho perso Regà Scusate Devo ricominciare A fare pratica Perché Da tanto che non ci entro Ma io direi Di andare Con il messaggio Di Nathan Allora Usciamo da StumbleGuys E vediamo Nathan Cosa ci dice Speriamo che non è una challenge Su StumbleGuys Perché regà Non è per me più StumbleGuys Ok Ecco qui Nathan Apriamo il messaggio E vediamo Cosa ci dice Allora Vediamo Ok ragazzi Allora Nathan Ci ha obbligato Di sciuppare Qualcosa con i bling Su Brawl Stars Allora Fortunatamente Brawl Stars È il gioco del momento Quindi Io ci sto giocando E E quindi adesso ragazzi Andiamo a sciuppare Qualcosa con i bling Vediamo cosa troviamo Di utile Oppure Qualcosa Però basta Che ha detto Che scioppiamo E Se ci possiamo Comprare una skin Ci facciamo pure Una partita Ok Allora Ci troviamo Nella sezione Brawler Però io Vorrei andare Nel negozio Nella sezione Negozio No Ma come Raga Mi ha fatto uscire Mi ha fatto uscire E vabbè Raga Mi ha fatto uscire Non lo so Ma in tutti i telefoni Non lo supporta Brawl Stars Vabbè Scusate per la figuraccia Ma adesso Rientriamo Ok Ogni volta che entro Nel negozio Di Brawl Stars Mi cresce sempre Non ho mai capito Il perché Allora Vediamo Qualcosa con i bling No Io ho solo 2000 bling No 5000 5000 Vabbè Dobbiamo vedere Per forza Nel catalogo Quindi Nel catalogo Ovvero Dovrebbe essere qua Allora Catalogo Ed eccolo qui Allora Io non voglio Comprare Tipo Reaction Ma Allora Le skier rare Costano 1000 Bling Però Voglio vedere Anche Voglio vedere Pure quelle No Raga Per poco Potevo Shoppare Qualcosa Di super Raro Vabbè Non fa niente Io direi 8 8 bit Vintage Non è che Mi affascina Così tanto Perché E' comunque 8 bit Invece di Blu E rosso Jesse Bambola No Maxi In turn Non mi piace Spike Mascherato Vabbè Ragazzi Allora Ci No Ci facciamo Spike Mascherato Ed ecco qui Abbiamo shoppato Con i bling Tutto Questo Infatti Eccoli qua Che Sono andati Via Ben Mille Bling Ma Adesso Ci andiamo a fare Una bellissima partita Con Spike Mascherato Allora Community Ecco qua Nuovo livello Non ci facciamo Così il distruttore Ma ci facciamo Sopravvivenza No Facciamoci Annientamento Vabbè Annientamento E Andiamo Allora Spike Mascherato Chissà Che Quale Faccia Mi appare Quella di Tara Mi apparsa Va bene Quella di Tara Quindi Non stiamo giocando Con uno Spike Ma con Una Tara No Quella di Semino Uscita Vabbè Con la dice Tara E poi la Qua Semino Vabbè Immagino Che Se muoio Credo che Mi cambi Maschera Ho sprecato Una Super Per Tic Ma l'importante È Fare fuori I nemici Vieni qua Vieni qua Bene Ok Tic Ok Sono morto Eh vabbè Manco il tempo Di vedere Se mi cambiava Faccia Ma va bene Allora Ragazzi Ci siamo Scioppati Con i bling Vabbè Niente Però Ci siamo Scioppati Spike Mascherato Mascherato Con i bling Ma io Non sono ancora Soddisfatto E voglio fare Un'altra Partita Per Vedere se cambia Quando muoio Per vedere se cambia La faccia Allora Prima mi ha dato Quella di Semino E vediamo adesso Quale mi dà Mi dà Quella di 8 bit Ragazzi Allora 8 bit Mi ha dato Questa faccia Di 8 bit E adesso Io mi vorrei far Chillare Per vedere Se da 8 bit Passa un'altra Maschera Infatti Mi farò Chillare Vai Chillatemi Ma manco Non sono neanche In grado Di chillare Da 8 bit Infatti È passata Dall'orso Di Nito Infatti Ogni volta Che ci si muore Cambia Faccia Ok Fatto fuori Beryl Ok Ragazzi Allora Vabbè Sono morto Un'altra volta E Non fa niente Però abbiamo vinto Adesso Andiamo a vedere Cosa Ci dice Il coccolone Per la channel E poi abbiamo Oh Allora Mi ha dato Un uovo Vediamo Cos'è Epico No Epico Ma mi dai 100 crediti Sì ragazzi Perché qui Ho finito Tutte le mutazioni Purtroppo Per chi lo sa E per chi Ha seguito I miei scorsi video Avevo detto Che Il mio account È stato bannato Infatti 24 giorni fa Se andiamo Qui Su Supercelli D E andiamo A Vedere Il mio account Infatti L'account È stato bloccato Per motivi Di sicurezza Non lo so Perché Delle persone Stavano entrando Nel mio account E ho scritto La supercell E quelli Me li hanno bloccati Va bene Allora Io direi Di ritornare Sul mio second Account Ma voglio vedere Coccolone Cosa ci dice E speriamo che Non sia una challenge Su Brawl Stars Perché Allora Messaggio vocale Impostato Per una sola Visualizzazione Ovviamente Vediamo Cosa ci dice Coccolone Ok Allora Coccolone Ci ha Detto di Vincere Infatti Dopo me L'ha detto Mi ha detto Di vincere Senza Sparare Vabbè Però io direi Di andare Sul sopravvivenza Allora Ragazzi Adesso Andiamo A Giocare Questa partita Cioè Dobbiamo Vincere Senza Sparare Almeno Non devo fare Primo posto Perché È impossibile Però Dobbiamo Soltanto Guardare Almeno Fare Secondo posto Allora Per Allora Io Non so proprio A chi mettere Vabbè Comunque Non dobbiamo Sparare Quindi Possiamo Mettere anche Vabbè Mettiamo Almeno Una persona Con molta vita Frank Frank Che almeno Non spariamo Ma se mi ammazzano Abbiamo Molta Ma molta Ma molta Più vita Allora Ecco qui Siamo contro Maxine Colt Bade Vabbè Tutti questi Brawler Allora C'è un Frank Vicino a me No Non mi chillare No 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 Regà Allora Il pallino rosso Me lo devo proprio Dimenticare Non posso Non posso Toccarlo Non posso Spingerlo Neanche in caso Di emergere Vabbè Regà Qua tutti Contro di me Frank Dynamike No No Per favore Per favore Per favore Dynamike Te lo chiedo Per favore Allora No Regà No C'è Il Regà Ho perso Perché c'è Robot C'è Robot Per favore Dana Mike Ok Madonna Mia Regà Mamma mia No 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 Me ne ho sbarazzito Così Qualcuno Rompa Quel Cosa Ok Allora Qui c'è Un griff Io Non Non lo so Se posso Camperare Non posso Né Buttare Colpi Né Fari Niente Mettiamo La musica Ok Regà Ok Tre Bruller Rimanenti C'è Colt Ok Che ha Appena Sprecato La sua Super Sono Bloccato Purtroppo Sono Bloccato Bloccato Raga Eh Ho perso Ho perso Vabbè Terzo Posto Meglio Di Niente Raga Meglio Di Niente Terzo Posto 48 Eh Vabbè Terzo Posto Almeno L'abbiamo Vinta Ma io Voglio fare Almeno Voglio fare Almeno Secondo Posto Dai Se non Ce la faccio A fare Secondo Posto Non fa Niente Speriamo Che La challenge Poi di Manuel Sia Una Una Bella Challenge Che Almeno Non Che Almeno Vincere Senza Senza Sparare Perché Quella E' La roba Più Impossibile Da fare Su Brawl Stars Però Già che sono Arrivata A terza Posizione Già È una Cosa Molto Grande Infatti Mi sono Meravigliato Allora Qui c'è un Danamike Che vuole Spinnare Qualcuno Infatti Lì Non Vado Vorrei Tanto Killarlo Ma Non Posso C'è Un Ascelli C'è Un Ascelli Qui Meglio Ne Voglia Però Lì C'è Anche Una Beryl Cioè Dove Devo Andare Sono Circondato Eh Rega Oh Zitto No Vabbè Rega Allora Ci Riproviamo Un'ultima Volta Ve lo Dico Un'ultima Volta E Poi Basta Voglio Almeno Fare Secondo Posto Se Non Ce La Faccio Questa Basta Levo Levo Mano E Facciamo Un'altra Cosa Di Una Challenge Di Manuel Ok Allora Qua Mi sembra Molto Più Calma Anzi No Mi Sembrava Più Calma La Situazione Ma C'è Un'ambra Allora Andiamo Cene Qui Ok Ne Muo Via Rala Perché Non voglio Perdere Onestamente I miei trofei Ma almeno Prendo i power up Che la gente Non prende Almeno Me li prendo Per avere Molta Più Salute C'è un'ascelli E un'ambra Oh Ferma Camperiamo Però sarebbe pure inutile camperare E Senza attaccare Perché Devi stare in giro Anche se Non devi attaccare Siamo in giro Perché se no Non vale No Regà Ok Si stanno scannando Queste due Io vado di qua No No Vabbè Quarto posto Meglio di niente Dai Vabbè Ragazzi Basta E andiamo a vedere Manuel Cosa Ci va A dire No Premio raro Ti pareva Che Vabbè 50 monete E adesso Ragazzi Andiamo A vedere Manuel Cosa ci propone Ragazzi Purtroppo la fotocamera Non mette a fuoco Ma vediamo lui Cosa dice Pronto Dovrei ordinare Un pacco Dal dark web No Regà Un pacco Dal dark web Non ci credo No Regà Un pacco Dal dark web No Raga Un pacco Dal dark web No Devo rientrare Di nuovo In quei siti Brutti Non ci credo Non ci credo Vabbè Ragazzi Andiamo A riordinare Un pacco Dal dark web Ok Ragazzi Allora Ho trovato Almeno una posizione Per farvi vedere Bene Adesso Io direi Di andare Su google E almeno Vedere cosa troviamo Allora Cerca nel web Cerchiamo google Perché questo è Bing Che è un'applicazione Per bambini Che non dà proprio Che non dà queste cose Google Ok Allora Entriamo su google E adesso Possiamo fare La nostra ricerca Allora Andiamo qui E scriviamo Pacco Dal dark web Quindi pacco Dark No raga Non mi esce Web Andiamo a cliccare Dove acquistarlo Raga Poi Eh infatti Come vengono Vorrei saperlo Allora Oddio Raga Ho trovato Sto sito Ho trovato Sto sito Voi Non 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 cercatelo Mai Raga Almeno che Allora Accetta Vediamo se qui Ho capito Sì Però dammi Dammi I pacchi No raga Qua mi dà Solo un sito Dove Mi dà Soltanto un sito Dove mi spiega Cos'è il mercato Del dark web Quindi sta roba là Allora Io mi scrivo Acquistare L'altra volta L'avevo cercato Ma non lo trovo più Quel sito Questo è un pacco Dal dark web Vediamo Allora Allora Qua ci sono Allora Raga Allora Secondo me Non devo Allora Devo Cercare di Allora Ragazzi Ho trovato Il sito Qui giù Raga Infatti Scorrendo C'è Il mondo Sormesso Dello spaccio Di droga E dal Dark web Infatti Qui c'è scritto Come acquistarlo Infatti Qui c'è un sito Che non voglio Far vedere Perché Sennò Tutti voi Potete andare A comprarli Eccolo qui Il mio indirizzo mail Allora ragazzi Il mio indirizzo mail Lo trovate anche Su youtube Infatti Chris magic Il chrismagic 22 Vlog Giochi Chiocciola Gimel Punto Com Ok ragazzi Allora Qui c'è Il sito Ve lo giro Proprio Velocemente Ok Raga 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 Ok Eccolo qua Ve l'ho girato Ragazzi Ve l'avevo detto Che non volevo Far vedere Tutto Ma Purtroppo Raga Oddio Oddio Ok Allora Raga Allora Quanto Impiega Il pacco Ad arrivare Allora 7 9 Allora In Italia 2-3 giorni Ok ragazzi Allora 2-3 giorni Entra C'è scritto Che qui Entro 2-3 giorni Mi arriverà Il pacco Ovviamente Qui c'è scritto Ovviamente Qui c'è scritto Che devo Per forza Mettere La mia carta Di credito Quindi Vi schippo Questa parte Ok Ragazzi Carta Messa E adesso Dobbiamo Soltanto Mettere L'indirizzo Purtroppo Non voglio farvi vedere Perché Ok raga Allora Qui ho visto Davvero Una cosa Molto brutta Che potrebbe uscire Ma Non fa niente Lo faccio Per il video E va bene Allora Metteremo Questi Vengono E mi ammazzano Quindi Lo voglio mettere In qualche zona Di riferimento Avete presente Quegli uber Dove ci sono i pacchi Dentro Lì non è consentito Mettere pacchi Al di fuori Non è consentito Mettere i pacchi I pacchi Sconosciuti Infatti Quelli del dark web Sono sconosciuti Ma io direi Di Mettere Di Visto che Un mio C'è un negozio Dove c'è un mio amico Io direi Di farlo arrivare Lì dentro Il pacco Almeno così Arriva lì dentro E Non arrivo a casa mia Quindi Mo chiamo un attimo Il mio amico Per chiedergli Se può entrare Il mio pacco Ragazzi allora Telefonata fatta E mi ha detto Che va bene Solo per questa volta Può entrare L'ordinato E quindi ragazzi Questa clip La sto registrando Il giorno dopo Perché adesso Devo scendere Devo scendere Per Andare a prendere Il pacco Quindi io Io mi aspetto Sicuramente Che lì dentro C'è qualcosa Davvero di fuori di testa Però Andiamo Ragazzi Esattamente Dopo quattro giorni Come era indicato Nel messaggio Sono andata a prendere Il pacco Del dark web Eccolo qui ragazzi Non so L'interno Cosa ci sia Allora Adesso vi faccio Vi spiego con calma Allora Questo è tutto Il pacco Allora Di statura È piccolo È piccolo È tutto Fatto di scotch Quindi Allora Va bene È tutto fatto È tutto Ricoperto Di scotch E quindi Se è ricoperto Così tanto Di scotch Oddio Qua guardate Se è ricoperto Così tanto Di scotch Non so Cosa Immaginarmi Che ci sia Dentro A questo pacco Allora ragazzi Io direi Di andare A prendere Un coltello Per almeno Iniziare a tagliare E vedere Cosa C'è dentro Allora Raga Coltello preso E adesso Io direi Di iniziare A Svegliamo Un attimo La sedia Qui Io direi Subito Di Iniziare A tagliare Allora Raga Purtroppo Vorrei farvi Aspettate Vado a prendere Il tre piedi Così potete vedere Mentre io Lo taglio Allora Ragazzi Eccomi qua Allora Purtroppo Il tavolo È un poco Basso Però Mi sono inginocchiato Per dentro E Ecco qui Allora Vedete anche Il tavolo Mamma mia Raga Santo scotch Ci hanno messo Non riesco A tagliarlo E ho paura Di Poi Qualcosa All'interno Allora A dire Che lo abbiamo Aperto Lo abbiamo Aperto Oddio Ok L'abbiamo Aperto Qui Adesso Tagliamo Qui Ok Già Si inizia A Vedere Qualcosa Giriamo Già Allora Raga Già Già Raga Vedo Vedo Raga Già Una 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 Cassa Però Non vi voglio Spoglierare Ancora Allora Non voglio Spoglierarvi Ancora Ma Vi do Una Cassa Ok 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 Non si vede Soltanto La Cassa Ok Raga Bene E facciamo L'ultima Parte E poi Il nostro Pacco Madonna Mie Quanto Scotch Hanno Messo Porca Miseria Ok Ragazzi Pacco Ufficialmente Aperto Quindi Adesso Vi levo Dall'altre piedi Ok Allora Il pacco È aperto Quindi Io direi Di girarlo Così Oddio Già Vedo Qualche Roba Di legno Va bene Va bene Iniziamo Con calma Allora Apriamolo E vediamo Allora Iniziamo Già Dalla Già Vedo Un martello Allora Una Cassa Va bene Un altoparlante Portatile Bluetooth Ovvero Della Link Quindi Va bene Così Va bene Così Una Cassa Vediamo Se c'è All'interno Allora In teori Già È stata Aperta Già È aperta E vabbè Ragazzi Mi capite Potremmo Mettere La roba Nuova Allora C'è Una Cassa C'è Una Cassa Che Ho tirato Fuori Eccola Qui Una Bellina Bellina Questa Cassa Va bene Però Con Senza Niente Va bene Allora Poi troviamo Un martello Che Se volete dare Una martellata Addosso a qualcuno Vabbè Non ve lo proibisce Nessuno Dall'arc web Oddio Oddio Raga Una Spra Aspetta No Raga Una Spranga Di ferro Oddio Raga Raga Una Spranga Una Spranga Di ferro Non ci No Raga No No Vabbè Una Spranga Di ferro Ma Chi Stai Dicendo Allora Io Li ho Viste Le Da qua Sopra Che il Tavolo È Di vetro Si Spacca Tutto Wow Una Spranga Di vetro Che ci hanno Fatto Invece Infatti Qui È Un po Arrugginita Vediamo L'avranno Usata Sicuramente E Poi Vediamo Allora Qui Abbiamo Una Oddio Una Chiavetta Usb Raga Un'altra Chiavetta Usb Però Questa Volta Non c'è Scritto Che Era Quella Macchinetta Non era Quella Chiavetta Che metti Nel computer E si Rompi Tutto La Chiavetta Hacker Non è Quella Qua c'è Scritto Medicina Del Lavoro Medicina Legale Raga Dopo Vediamo Che canzoni Ci sono Dentro Perché voglio Vedere Cosa c'è Ancora Oddio 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 Allora Raga Io vedo Una pistola Ok Allora È il giocattolo È il giocattolo Raga È una pistola È il giocattolo Perché c'è Il pallino Rosso Infatti Sì È il giocattolo Perché anche Qui È plasticosa Ma Raga Mi stava Venendo Mi stava Andando Fuori Nario Madonna Mia Madonna Mia Mi stava Andando Il cuore Nario Allora Finora Abbiamo Trovato Una cassa Poi Un Martello Una pistola Giocattolo L'importante È che è Giocattolo Una chiavetta Una chiavetta USB E una spranga Di ferro Vediamo Cos'è C'è No Raga Allora Lì C'è un coltello Senti i coltelli Quelli là Con la punta Che si accolte No No Regano No Regano Devo Prendere Assolutamente Un fazzoletto Regà Perché Non lo so Se lì C'è stato Tipo qualcosa Qualcuno Che Ok Prendiamo un pezzo Di scottex Bene Perché Non voglio che Poi le mie Porte digitali Vadano Su quel coltello Allora Mi stanno venendo I brividi Infatti Allora Questo è L'ultimo contenuto Della scatola Un coltello Che poi Non potete manco Dire che L'ho messo io Raga Perché Il coltello Che ho tagliato La scatola È arancione Mentre questo Qui È uno vero Raga Prendiamolo Ok raga Allora Il coltello È situato qui Raga Mi fa solo paura A vederlo Raga Allora Mettiamoci La carta sopra Ok raga Allora Il coltello Eccolo qui Ma non vedo Allora È un po' sporco Da cui non si rende Dalla cam Ma Non c'è Una singola Goccia di sangue E poi Della Rostifrei Un coltello Della Rostifrei In questa marca Così Quindi Allora Ricapitoliamo Mannaggia Manuel Che mi fa fare Queste esperienze Mannaggia Lui Allora Abbiamo trovato Una cassetta Bluetooth Che sicuramente Sarà associata Con la chiavetta Poi dopo Vediamo Un martello Qui normale Una pistola Giocattolo Già qua Si metteva Una pistola Vera Un Fottocoltello Un coltello Che non so neanche Se ci hanno Fatto uso E poi Una spranga Di ferro Arruginita Allora Quindi Nello Scorso video Che compravano Un pacco Dal dark web Era ancora peggio Cioè Lì c'era Proprio Della nitroglicerina E E poi No rega Manco far No aspetta Vi ricordate Sto Rega Rega Mi sa Che è uguale Rega Mi sa Che è uguale Aspetta Io voglio vedere Il video Che ho fatto Prima Ci vediamo Fra poco Ok ragazzi Ho trovato Il video Vediamo Se Ecco Rega Eccolo Rega Mi sa Che è uguale Ma lo sapete Cos'è Sto Coltello Rega Sto Coltello Vale No rega E' uguale E' uguale E' uguale Non ci credo E' uguale E' uguale No rega E' uguale No rega No 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 Rega E' uguale Comunque l'ho fatto analizzare da qualcuno per vedere le impronte digitali e ci ho trovato giustamente delle impronte ma però non è stato lavato ma non c'è stato neanche sangue qui sopra infatti abbiamo analizzato dal microscopio però raga però ragazzi allora non lo so se fidarmi o meno perché comunque è un coltello che se lo inficchi subito mori dal regalo allora è uguale perché ho trovato lo stesso fito solo che era più aggiornato raga allora ricapitoliamo vi faccio rivedere spranga di ferro, pistola finta poi martello cassa, chiavetta e coltello che mi è uscito anche in quel video allora ragazzi adesso il mio computer sta lì e adesso andiamo a vedere se andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa chiavetta comunque per chi se lo stesse chiedendo della chiavetta che avevo trovato qui nello scorso video del dark web l'ho buttata perché l'avevo messa ma poi non ci avevo trovato niente cioè c'era scritto soltanto chiavette chiavetta la chiavetta del lager c'era scritto ma non c'era scritto non c'era niente nei file non c'era nulla adesso andiamo a vedere infatti perciò non ci ho fatto un video adesso adesso andiamo a vedere dove è la chiavetta? eccola qui adesso andiamo a vedere cosa c'è in questa chiavetta allora ragazzi ecco qui il computer adesso lo accendiamo eccolo qui e io non ho idea cosa trovarci lì dentro spero che non ci sono tipo quei filmati dove non ho no speriamo che non ci sia niente allora ecco qui il computer ok password messa e ok allora adesso mettiamo un attimo la usb la usb la inseriamo ok la inseriamo qui ok usb messa infatti c'è la luce rossa che è stata messa e andiamo su qui sulla cartella e vediamo così c'è qualcosa non me la apre no raga non mi dire che no non mi dire che c'è tipo un vino raga allora io ok me l'ha persa me l'ha persa zitti oddio 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 guardate il mouse no prima si stava muovendo senza che nessuno raga non ha mai fatto questo non ha mai fatto questa barra ok non l'ha mai fatta allora questo no si sta caricando ancora ok ha smesso di caricare ok allora qui abbiamo dobbiamo vedere allora qua già mi da granny il gioco il gioco granny ma se se scendiamo giù eccola qui oddio allora ho trovato la chiavetta che ci sono 86 programmi dentro poi i supporti i supporti questi sono quelle sono sono delle cartelle vecchie infatti 2023 2023 e 2024 ma raga ma raga io sto registrando questo video l'8 maggio l'8 maggio del 2024 e raga qua mi da 86 programmi ok allora allora ritorniamo indietro ok allora qui c'è la chiavetta osc che è la chiavetta che che mi hanno dato e qui ci sono 86 programmi raga ed eccoli qui allora common file google epic games ci sono un sacco di di programmi ma ma non sono 86 ok no no non mi posso far girare perché qui ci no raga ci sono canzoni horror e poi si sta baggando tutto cioè il mouse sta qui raga e là no raga qua ci sono canzoni horror non è meglio levare non è levare no raga no raga qui qui ci sono davvero programmi ma programmi vabbè ragazzi allora io direi di finirla qui di